ho stoppato un attimo il video un secondo fa perché ho ricevuto una chiamata e quindi eccoci qua siamo tornate spero di aver inquadrato bene ok allora eravamo rimaste qua mi sembra sì sì avevo fatto vedere il pennellino qui avevo letto i due step ok quindi perfetto e qua c'è il vario il vario make up labbra unghie accessori struccante occhi e viso ok siamo inquadrate sì ecco avon plus 3 a 31 euro e 50 in questa campagna avon ci propone il set di tre eau de parfum sette far away infiniti da 50 ml l'uno 31 euro e 50 questo è l'avon plus della campagna 2 avvolge il tuo corpo in un abbraccio di femminilità set wow soft mask 9 euro e 99 il set contiene l'odito let spray da 50 ml il deodorante anti sudorale a sfera il talco profumato scintillante ragazze 9 euro e 99 cioè 50 ml di profumo deodorante e talco quindi per chi ama il soft mask ne potrebbe approfittare mi dichiaro un amante del bello sì ovviamente è bello ciò che piace comunque e non è bello ciò che è bello set rari gold a soli 16 euro e 99 o di parfum spray 50 ml insieme alla lozione per il corpo 16 e 99 questo 19 e 99 questo 17 e 99 15 e 99 15 e 99 solo questo è da 30 e ragazze questi tre sono da 50 questo da 50 poi mi dichiaro innamorata della vita sì anche se nella vita purtroppo ci sono anche cose che purtroppo non vanno bene quindi a parte quelle si sono innamorata della vita 7 viva la vita soli 15 euro e 99 o de parfum 50 ml e lozione per il corpo 150 ml si possono prendere anche singoli questi è 3 99 la lozione corpo e 14 99 il profumo qua abbiamo questo 10 e 50 poi quest'altro sempre pur blanca 10 50 14 e 99 e 14 e 99 tutte ci tutti sono da 50 ml è come questo poi vediamo mi dichiaro un'intrigante seduttrice no assolutamente no magari cioè ragazze magari un'intrigante seduttrice andiamo avanti 7 mesmerize black a soli 15 e 99 o de parfum no o de toilette scusatemi 14 e 99 e la crema per il corpo profumata sempre mesmerize black quindi 15 e 99 se li prendiamo insieme mentre questi sono tutti da 50 questo 15 e 99 se il 99 il wall pulse 14 e 99 e 14 e 99 poi mi dichiaro uno spirito libero sì quello sicuro setta bonfrey a soli 15 e 99 o de parfum da 50 e lozione corpo questi qua ci vengono il tomorrow 19 e 99 sono tutti da 50 poi abbiamo questo il secret fantasy wonderland 7 99 anche quest'altro 7 99 poi 10 e 50 e 19 e 99 queste novità e allora allora everything mai everything o de parfum spray novità poi fragranze coinvolgente da uomo infatti per lui e per lei questi qua sono detergente corpo e capelli entrambi 3 99 e il talco far away scintillante 2 e 50 buono i vari profumi senza promozioni senza offerte e adesso qua arriviamo alla cura della pelle due a 14 euro e 90 scelta sulla pagina 90 quindi questa mentre queste sono due a 12 e 90 scelta a pagina 91 quindi questa qua ci sono le varie quindi creme per il viso questa pagina 2 a 7 euro e 90 poi sì solo pagina 92 e poi qui abbiamo questi altri prodotti di 4 e 99 tranne questo che viene 3 e 99 poi allora qui ancora le creme 2 a 21 e 90 scelta da pagina 94 a 99 quindi fino a qui e sono due a 21 e 90 abbiamo detto quindi due prodotti che possiamo scegliere da qua infatti due a 21 e 90 fino a qua ok poi andiamo avanti ancora i new per tutte le età questo che c'è in questa pagina anche qua prezzo provami 16 e 99 provami perché da 30 ml perché un siero che cosa vedrò insomma questo è un siero potenziatore di giovinezza e anti età per tutte le età efficacia della crema da sola siero più crema fino a due volte più efficace potrebbe essere interessante non ragazzi vabbè che cosa è il multi masking ok quindi le varie maschere per il viso multi masking e pulizia profonda 3 a soli 9 99 a scelta tra questa pagina e questa pagina quindi le tre creme per il viso poi l'orologio robin glitter questo a 9 99 ve lo ricordate l'avevano messo nel catalogo prima di natale io l'avevo preso che era nel set insieme agli orecchini color argento ve l'avevo fatto vedere nello spacchettamento e ve l'ho fatto vedere anche nel video dei miei bijou avon fino ad esaurimento scorte quindi ragazzi questa è un'opportunità se vi piace potete prenderla 9 99 se acquistato un prodotto da pagina 104 quindi da questa pagina addirittura fino a 145 quindi da 104 a 145 se acquistate qualcosina potete prendere questo a 9 99 ok questa collanina ve la ricordate reversibile questa è carina poi pronta per brillare collana jasmine floreal 8 e 99 questo orologio è pure carino 14 e 99 andiamo avanti con i bijou questa collana guardate 12 e 99 questo 10 e 99 9 e 99 6 e 99 novità afferma il tuo stile guardate che carina collana 12 e 99 e il braccialettino 8 e 99 guardate che fiocco che pende da qua bello 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 ma questi qua carine 7 di 10 paia di orecchini a 7 99 questi scusatemi questi 9 99 che è un 7 di una collana con 7 ciondoli intercambiabili poi colori da abbinare alle emozioni e come guardate guardate questi cambiano colore ecco qua impazzisco io allora con il freddo e fucsia pure il cinturino cambia e con il caldo e rosa orologio con cinturino solo il cinturino cambia orologio con cinturino che cambia colore in base alla temperatura corporea ma no io impazzisco con queste robe ragazze e questo è il bracciale il colore cambia in base alla temperatura corporea freddo, nero, arancione, verde a mano a mano che ci avviciniamo al caldo blu e questo è grigio forse no marrone chiaro non capisco beh liavono e c'è un po' di cose comunque che cambiano colore 7 di orecchini 8 e 99 ricordatevi l'offerta qui eh dell'orologio eh siamo inquadrati qua sembra di sì allora 7 di orologio orecchini Angie ah questo anello della diamond desk mai preso ok questo 22,99 qua alziamo di prezzo fino ad esaurimento scorte perché sono orologi o orecchini eh poi scegli come indossarli aggiungi un tocco di classe ma bene poi braccialettini orologi novità segui il look il trend look stratificato allora novità 7 di anelli eccoli qui a 7,99 sono 7 anellini mentre i braccialettini due modelli con filo di poliessere e chiusura annodata taglia unica 3 con catenella metallica 8,99 ok wow intimo cotonella la nostra prima linea di reggiseni cotonella realizzata in cotone bioelastico per una vestibilità perfetta novità ragazze reggiseno cotonella 12,99 e questo pure 12,99 ok bene a sapersi ancora cotonella però gli slip ok guardate questi qua che sono belli contenitivi cioè non c'è scritto che sono contenitivi ce l'ho aggiunto io allora acquista un prodotto e puoi averne un secondo a soli 5,99 a scelta da pagina 118 e 119 queste due poi il reggiseno il reggiseno giusto 14,99 pure questo va bene ancora reggiseni poi completino intimo pigiama questo pigiama viene 19,99 novità che carino pure questo completino 12,99 5,99 pigiamini pantofoline tuta per stare in casa 7 per il tempo libero dice qua per una siluette perfetta jeggings 21,99 con zip nero effetto snellente con taglio body illusion e fascia frontale con zip laterale per una vestibilità migliorata wow che scarpe chic scarpe con il tacco 29,99 l'altezza del tacco è 9,5 quindi 9,5 cm non lo so se io riesco a portarli forse si non lo so 29,99 mentre questi 21,99 un aiuto per modellare cosce gambe e addome andiamo avanti poi primavera costile ok questa è novità maglia lace 17,99 con queste maniche ampie si vede che si usano forse ora sapete infatti qua ci sono i volà queste maniche un po' se volazzanti per la primavera forse si usano tuta 27,99 mantella con bottoni 12,99 novità il colore più hot della stagione fucsia sembra fucsia indossa lo sciolto annodalo dietro indossa il davanti come il dietro ci sbizzarriamo 19,99 il vestito questa borsa 14,99 novità sempre chic alla moda ecco che tornano gli occhiali da sole perché sta arrivando la primavera e quindi Avon poi ci dà una vasta scelta di occhiali da sole per te gli occhiali Zandra sono i 6,99 ok poi ora puoi acquistare tutti e tre eccoci qua infatti è uscita novità borsa weekend questa 21,99 9,99 e quest'altra borsa 17,99 qua abbiamo le varie iniziali porta chiavi eccola qui borsa weekend novità 21,99 varie scarpe questo zainetto queste scarpe sono novità hanno le paillette scarpe da ginnastica nere con tecnologia sole sensation per un comfort extra sembra che ci siano paillettes brillantini mica lo dice non lo dice vabbè 24,99 ancora con la moda e questo novità i tuoi cosmetici sempre con te ah è una trousse porta cosmetici 4,99 ah e puoi scegliere praticamente l'iniziale si può scegliere l'iniziale bello prodotti non inclusi eccoci qui questa è la copertina che quando si bagna si allarga l'avevamo già vista allora questo ecco si illumina gradualmente ragazze questo io l'ho preso quindi è dentro il pacco Avon solo che io per farvi il catalogo subito perché poi devo uscire non l'ho ancora aperto è dentro lo scatolo però ho preso questo e anche la fontanellina quindi se avete il piacere di vederli ve li faccio vedere poi quando faccio lo spacchettamento spero di poterlo fare in giornata però non vi assicuro nulla spero di sì poi questo l'ho preso pure il sacchetto cuoci patate per microonde sì ora andiamo avanti quindi la roba qui per la cucina magic kitchen magic la novità è il tappetino multiuso in silicone lavabile anche in lavastoli stoviglie e utilizzabile nel forno ah ecco con vari usi poi si può usare in vari modi e questo organizer multitask organizer ok sette di spugne perfetto dai e qui abbiamo poi il confletoletto il trapuntino matrimoniale con le varie offerte qui ultima opportunità di acquisti fino al 70% in meno questo l'ho preso ve l'ho fatto vedere in uno spacchettamento prima di Natale molto molto bello andiamo avanti questo pure l'ho acquistato qualche mesetto fa 2,50 morbidissimo e caldissimo senti il tuo tocco magnetico set wow gocce di mascolinità a soli 13,99 mesmerize black qua i vari profumi da uomo il mask vulcane a soli 11,50 ancora profumini profumi scusatemi set per sip più sensis a soli 15,99 e il set sensis più avon free 15,99 formato XXL quindi è da 720 ml 4,50 questa è tutta roba da uomo tutti i prodottini per i piedi set ai sali marini 5 euro il set allo zucchero di canna e vaniglia 5 euro ok andiamo avanti questo è il pennello per la maschera per il viso 4,50 due planet spassoli 6,90 pagina 164 e 165 e qui dice la stessa cosa quindi due di questi 6,90 a scelta mentre qua un gel idratante levigante per il contorno occhi a soli 2,99 a scelta tra qui e qui questa è la novità gel idratante levigante per il contorno occhi la roba per i bimbi prodottini per i bimbi ok con aeromore technology benissimo questi qua i detergenti intimi a 3,99 l'uno novità crema multiuso con olio di cocco 3,99 tutti e 4 a soli 10,99 quindi questa crema novità la lozione per il corpo la crema per le mani e la crema per il viso da 100 ml che di solito sono da 50 offerta di benvenuto prova uno di questi prodotti a vonkerra a soli 3,50 ok capelli acquisto un prodotto e scegli il secondo a soli 3,99 a scelta tra questa pagina e questa ok ancora prodotti per i capelli guardate che carino questo accessorio per trecce se lo sappiamo usare secondo me viene carino il risultato per lo meno se lo so usare scusatemi perché io non è che sono tanta brava per queste cose voi sicuramente sarete più bravi di me sei pronta per la nuova stagione per una cura dei capelli ti dico professionale però ti dico di tipo scusate quando leggo al contrario per una cura dei capelli di tipo professionale per ogni esigenza solo un prodotto a vonkwars allora un prodotto a vonkwars e vedi i dettagli in ultima di copertina a scelta scontato a 4,99 solo in questo catalogo si si adesso ci arriviamo ci arriviamo ok ok benissimo ci sono i vari diodoranti ok 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 creme doccia gel doccia andiamo a vedere questi prodottini a 4,99 solari ragazze i solari iniziamo con i primi solari questo è l'auto abbronzante 5,99 non l'ho mai preso non vi so dire crema per le mani che una lo sto quasi finendo e poi vi dirò nei prodotti finiti come mi sono trovata qua ci sono i vari prezzettini prezzi ok diodoranti da uomo da donna ok 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 poi fai il pieno il profumo della natura solo 1,99 ha scelto ragazze l'uno su queste pagine su queste due pagine eccoci qua scegli il tuo prodotto per una forma smagliante Avon presenta Avon Works la linea completa per un corpo di cui essere fiera per i risultati migliori eccoci qua il prodotto innovativo di stagione ok ragazze qua ecco qua vedi solo in questo catalogo a 4,99 l'uno per ogni prodotto acquistato da pagina 180 a 203 quindi da dove hanno iniziato praticamente a farci vedere la pubblicità da questa pagina da dove hanno iniziato infatti prima non dicono niente fino all'ultima fino a pagina 202 fino a qua quindi ok ragazze mie abbiamo finito eccoci qua allora io vi ringrazio tanto perché so che questo video vi piace io ve lo faccio con il cuore mettetevi un grandissimo bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale mi raccomando ragazze iscrivetevi mi fa tanto piacere grazie ci vediamo poi con il supplemento